Un caldo nomano, quello che sta interessando l'Italia, l'aquila abituata al fresco di sera e a temperature mai troppo roventi in questi giorni si sta subendo davvero la morsa del caldo, a scapito soprattutto degli anziani e in effetti, guardando i crudi numeri, i ricoveri degli anziani all'ospedale e in geriatria sono aumentati in questi giorni. I consigli sono quelli di ogni anno, ma da tenere sempre bene a mente a fornirli la dottoressa Maria Piaioveniti, geriatra dell'ospedale. Come geriatra ogni anno torno a dare consigli alle persone che vengono da me seguite sia in ambulatorio che in reparto e sono consigli molto semplici, evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 17 in modo particolare, indossare degli indumenti molto leggeri di lino o di cotone, cercare di ombreggiare l'abitazione, quindi tenere le imposte chiuse durante le ore del giorno e aprirle nelle ore notturne per consentire un'adeguata aereazione. Fondamentale introdurre acqua. Gli anziani non hanno lo stimolo della sete, vanno pertanto aiutati anche dai familiari, anche semplicemente prendendo una bottiglia d'acqua, un litro e mezzo, che metteranno sul comodino per poi poter controllare se effettivamente l'hanno consumata nel corso della giornata. E' importante per i pazienti che assumono delle terapie come farmaci per ipertensione arteriosa o diuretici una revisione della terapia da parte del medico di famiglia, mi raccomando mai fare un'autogestione della terapia, allo scopo appunto di ridurre o in qualche caso sospendere farmaci che in questo momento potrebbero essere controindicati. Nel reparto si sta registrando un incremento dei ricoveri, ma non per il classico colpo di caldo che negli anziani ha modalità diverse rispetto ad altre fasce di età, soprattutto perché arrivano pazienti scarsamente idratati e con episodi di delirium. Come ogni anno, in periodi di incremento della temperatura, noi osserviamo ricoveri per disidratazione, pazienti con insufficienza renale che peggiora oppure nuova insufficienza renale legata alla scarsa assunzione di liquidi e stiamo vedendo molti casi di delirium in pazienti affetti da demenza la cui sintomatologia peggiora a causa delle elevate temperature e queste persone non sono sempre in grado di riferire i propri sintomi familiari, quindi stiamo osservando molti ricoveri di questa tipologia.